Ragagagazzi, un saluto forte! Per chi non mi conoscesse, mi presento. Mi chiamo Alex Garini e da qualche mese sono emigrato al nord, precisamente a Stonder Padova. Quando ti trasferisci al nord, tra le tante cose, che succede? Ricevi milioni di chiamate da parte di tua mamma, che ti dici, ma tu, ma tu lo hai mangiato, ma che ti hai mangiato oggi? Ma come ti trovo? E la cosa più importante, ballocaggendo con ma sua! E ma te ne ho i cosci, i cavi, i ricchi, so come noi, si manca si trasferite su Marte. Da qualche giorno a questa parte, però, queste chiamate non le sto più ricevendo. E sapete perché? Perché mia mamma, la signora Filomena, è qui! Buonasera a tutti! Filomena, allora, visto che sei qua, ti devo dedicare questa grande canzone, e questa canzone fa così. Mamma, son tanto felice, perché ritorni da me, mamma, sono con te in questa canzone, come ne poco, come la canzone, ragazzi! Mamma, tu non sarai per me, tu non sarai più solo! Poi, hai messo proprio la scelera tu! Allora, Filomena, saluti a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo. Mi stai facendo commuovere! Come si bella, non ti commuovere, che stanno facendo la prima fazuletta. Io saluto tutti i ragazzi che stanno fuori, e anche le mamme che soffrono, che stanno i figli fuori, e purtroppo si deve andare avanti, sia per le mamme e per i figli, si devono fare la loro vita, e dove stai lavorando, là si deve correre. Io vi saluto tutti, buonasera, a tutti gli emigranti, arrivederci! Un abbraccio forte a tutti gli emigranti, come diceva Romero, a te tu sei l'uomo, a te mi emigrante! Arrivederci!